Radio Radicale, siamo con l'ex ministro Spadafora per parlare di quello che è successo in queste ore dove c'è stata questa dolorosa scissione del Movimento 5 Stelle, la nascita di Insieme per il Futuro. Allora, adesso qual è il nuovo scenario e soprattutto come siete arrivati a questa decisione? La decisione è sicuramente molto sofferta, che nasce già da situazioni complesse che abbiamo dovuto affrontare nelle settimane passate, soprattutto di mancanza di dialogo con il Presidente Conte del Movimento 5 Stelle, però ormai questa decisione è stata presa e la prospettiva è sicuramente quella di creare un'area politica che possa anche essere presente evidentemente alle prossime elezioni, ma soprattutto portare avanti anche temi importanti che sono state le nostre battaglie storiche, ai quali però vanno aggiunti temi nuovi che ci consentono di dialogare molto di più di quanto non fosse riuscito a fare il Movimento 5 Stelle e Conte con i cittadini e con l'opinione pubblica italiana. Allora, vi connotate come una forza politica moderata di centro. Qual è la vostra connotazione e collocazione politica? Perché di questo in queste ore si è parlato anche tanto. Sì, ma questa connotazione di centro è una connotazione che ci viene attribuita più che altro. In realtà la cosa più importante adesso è avere un'identità di tipo culturale, soprattutto di contenuti e questo è possibile soltanto con il lavoro che faremo nelle prossime settimane, a partire da oggi che ci sarà la prima riunione del gruppo parlamentare. Quindi credo che la cosa più importante ancora una volta, prima di scelta, con l'occazione, è scegliere e capire qual è il nostro progetto e questo lo faremo insieme tutti quanti nelle prossime settimane. Qual è stato il grosso limite di Conte, non essere stato qui? Allora, io parlando con alcuni di voi che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle mi hanno detto ma noi non siamo mai riusciti a parlarci, non abbiamo... Allora, qual è stato il suo grosso limite che poi l'ha portato in qualche modo a fare marcia indietro in queste ultime ore? Ah, io credo che il suo limite vero sia che per la sua storia, per la sua indole, così come sia riuscito secondo me a svolgere egregiamente il ruolo di Presidente del Consiglio, soprattutto nel periodo della pandemia non abbia invece quella storia, quelle attitudini anche personali per essere un leader politico di una forza tra l'altro, anche molto complessa, quale era per me il Movimento 5 Stelle e soprattutto non essere molto abituato all'ascolto. Io sono uno di quei testimoni dell'impossibilità per mesi di potermi confrontare col capo di quella che era la mia forza politica ma non certo per chiedervi cose personali o rivendicare posizioni, ma per proporre progetti, per proporre visioni ma anche per un confronto critico che è naturale e democratico in ogni partito. Credo che il Presidente Conte sia un po' allergico a questa azione di ascolto e di confronto. La prossima settimana arrivano due importanti provvedimenti in aula, quello sullo iuscole e quello credo anche sulle coltivazioni della cannabis allora ci saranno di mezzo le amministrative e oggi lo scenario, diciamo la geografia parlamentare è un po' cambiata perché la Lega è un po' il primo gruppo. Allora lei si aspetta delle sorprese dal combinato disposto dei risultati delle amministrative? No, io non credo, non credo soprattutto perché credo che questa nostra azione comunque rafforzi il governo anche perché Di Maio è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni a sostegno del governo e credo che in ogni caso siamo a fine legislature per quanto ogni forza politica sia un po' entrata nel mood della campagna elettorale però sia anche consapevole del fatto che in questo momento questa fine legislatura è fondamentale anche per continuare a portare a casa dei risultati che poi ognuno a modo suo si spenderà durante la campagna elettorale. La ringrazio, grazie all'ex ministro Spadafora per la sua disponibilità. Grazie ancora, buona giornata.